Oggi quello dell'avvocato è un lavoro come un altro, sottopagato e decisamente inflazionato. Ma lei viene in tribunale con la busta del pesce? Questa è la spesa per il professor Bellastella, io sono il suo praticante. Abbiamo detto 47 esaminanti? Noi abbiamo la responsabilità di insegnare loro il ruolo livellatore dell'università. Lascio! Ma questo ragazzo lo paghiamo come cuoco o come praticante? Io in tre anni la faccio diventare il più grande penalista italiano, se lo ricordi. Io mi sposo la sua amica e lei mi fa il contratto. Sposo, parolona, non è propriamente una studentessa. L'avevo intuito. Per fare l'avvocato a quei livelli ci vuole un certo velo sullo stomaco, papà. Lei ha bisogno di visibilità mediatica, qualcosa di impattante. Perché noi lo organizziamo noi, Rosione? Allora non ha capito niente lei. Poi ha anche un ambiente cinico. A casa parla che mi scanda e non dà spazio! Molto cinico. Fortunatissima per la verità Fortunatissima per la verità Lei ha iscritto alla massoneria? Lei è dei nostri. No. No. Sono il padrone della città Sono il padrone della città La città La città La città Qua la notte devi dormire, non devi cantare, capito? Che te che sta al festival di Sanremo? Ma che vuoi? Hai rotto il cazzo? La velocità Professore, ma che fa? Tecniche di mimesi per entrare nel territorio, non si preoccupi.